ti faccio una domanda perché ti fai il colore perché vuoi coprire i capelli bianchi perché ti piace cambiare per cui vuoi un colore differente oppure perché ti piace quel colore che hai visto su quell'immagine su quella tua amica su facebook su internet e vuoi anche tu quel colore oppure ti fai il colore perché un professionista ti ha consigliato cosa puoi ottenere da un colore ben fatto ben posizionato per migliorare la tua immagine estetica ciao a tutte benvenuti mi presento per quegli amici che ancora non mi conoscono io sono paolo e 30 anni fa con la mia socia rosa abbiamo fondato la revolution revolution è un negozio di parrucchieri con un'idea ben precisa dare a tutte le nostre clienti i capelli wow per riuscire in questo intento abbiamo capito il nostro percorso formativo che sono indispensabili cinque step una consulenza indispensabile per conoscere le tue esigenze e il tuo capello una cute sana che produca un capello sano un capello sano non rovinato da trattamenti chimici o aggressioni meccaniche tipo quelle del fondo e la piastra e di più la pirametta un taglio che deve essere eseguito rigorosamente con forbici a lama piena le forbici normalissime non con le sfonditrici o con gli sfizzini è un colore che faccia sempre un complimento a te e al tuo taglio e non deve mai essere casuale stasera siamo proprio in quel mondo il mondo del colore se uno di questi argomenti se uno di questi punti non è al posto tu non puoi avere i capelli wow molto semplice e stasera dobbiamo capire il perché tutti fai il colore solo per coprire dei capelli bianchi perché ti piace cambiare perché hai visto quella bellissima immagine che ti ha attratto che ti è piaciuta tanto o come prima oppure perché un professionista ti ha saputo consigliare il colore è un aspetto fondamentale nella tua estetica nel tuo viso può fare tantissimo maggior parte delle teste che mi capita di vedere in giro corrispondono ai primi tre passaggi non al quarto sono colori buttati lì fatti così tanto per sembrerebbe per coprire il capello bianco talmente non dicono niente non aiutano l'estetica di una persona un colore invece può fare tantissimo vi faccio qualche esempio con un colore se non fatto correttamente puoi andare a pronunciare un naso già un po importante oppure tutto il contrario puoi andare a mitigare un naso importante la scelta del colore delle sfumature possono togliere durezza a un viso dai lineamenti quadrati sono tantissimi gli esempi che potrei farti è chiaro che non puoi farti fare un colore perché l'hai visto magari su una foto di un'altra persona tu non sei come lei non hai i suoi capelli non hai i suoi lineamenti ognuno di noi è differente e qua entra e ballo la prima fase per avere i capelli uomo cioè la consulenza la consulenza che è fondamentale per capire dove come posizionare il colore per valorizzare per renderti sempre più bella sempre più affascinante e per te che non sei come tutte le altre ma vuoi essere al meglio prenota la consulenza 0 3 7 1 8 9 8 9 0 0 questo numero di telefono della revolution dove uno dei nostri coloristi esperti ti guiderà nella conoscenza di quello che possiamo fare per renderti sempre sempre più bella se ami leggere clicca il pulsante che trovi sopra e accederai direttamente al nostro blog dove troverai qualche centinaio di articoli che parlano di tutto quello che il mondo capelli se mi piace ami guardare i video vai sul nostro canale youtube lì di video ne abbiamo caricati più di 400 sempre che parlano di tutto il mondo capelli per cui se anche secondo te i capelli giocano un ruolo importante nella tua immagine clicca e leggi oppure vai a cercare il nostro canale youtube e informati poi se te lo desideri ti prenoti una consulenza e noi ti spieghiamo tutto quello che possiamo fare per migliorare la tua estetica auguro approfitto per augurare a tutti voi un buon weekend noi ci vediamo con la prossima diretta mercoledì a mezzogiorno con la mia socia ciao a tutti buona serata e buon fine settimana